Siamo a Pescara con la Foil Academy Next Generation Powered by Luna Rossa, è un progetto per portare tutti i ragazzi della zona a navigare su foil, che sia una barca bela, una tavola bela o un wingfoil. Questo è nello staff, Gregorio Cararesi, Francesco Bombino e Leonardo Zaggia e Ciccio ci spiegherà come si fa a volare sull'acqua. Qui alle mie spalle vedete un'imbarcazione WASP che a differenza degli scapi normali, qui sul wingfoil nonché deriva e rudder foil timone, ci sono implementati i foil che sono dei profili alari che sostanzialmente grazie ai centri di pressione consentono una spinta della barca verso l'alto durante la navigazione e quindi questo consente agli equipaggi di poter navigare volando.